salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Cico e oggi siamo in compagnia di Alex e piace salutate allora eh ragazzi io sono 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 vicino a te chi è questo sono io e io non c'ho una jeep a posto c'è un basta guarda che non è valido il carro armato non è valido il carro armato e non ce la faccio e vai via non vale il carro armato eh non me ne frega ci sto lì invece ma non riesco a spararli o si a terra ti è possibile è possibile un atterraggio sicuro niente niente e tette il raggio sicuro cosa hai fatto cosa hai fatto guido io mi fai guido io mi fai guido io c'è lì da carro armato c'è lì c'è un missile eh eccolo lì lo vedo tu sorella e carriola è una brutta del bestia bravo e ora prendiamo il carro armato però non spariamo quello muoviamo guarda prendiamo il carro armato per cercare una c ma chi è che ti ha pensato ma per tutte le direzioni devi andare verso il ponte e non sotto l'acqua accosta accosta qui 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 voglio una jeep io prendo una jeep ciao ma va un viaggio è attento e lui ti vuole mazzoccare ti tiro la granata ciao ti tiro anche una fumogera ciao sembriamo due malati comunque ho preso una cip ora lo vengo a scatapagnare quello scrapato polizia a succhione succhione dove vai col tuo elicotterino da 3 dollari e vergogna che ti va ti fa più bene ah l'ho visto mi sparo mi sparo con la minigun è atterrato sul carro armando è atterrato su armando oddio povero armando niente è atterrato su armando se mi spari sono la jeep dietro se mi spari giuro e ti mando un missile in casa non mi sparare eh fermo 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 scendisi al coraggio devi sta solo lì eh non mi sparare eh è vietato ciocchione ciao va vai Alex help me help solo sonnet ma cosa qui ah ah io c'ho il punto magico siiii Zucchia 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 Sergio andiamo al punto C facciamogli un attacco dai dai Sergio andiamo al punto C Sergio vieni carica tutte le armi chi è che sta tirando se mi spari Alessio giuro che vengo a casa prendo un miss ha preso una jeep Sergio sta andando in direzione laggiù punto A scrivellalo fagli un buon testa falli capire chi sono i veri viaggiatori è andato verso di qua scappato a mare è nell'isola misteriosa delle carte del mistero di Lion compratele scendi Zucchione siamo arrivati la polizia dov'è? 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 fermo! è niente fermo Alex una bomba tiragli una bomba se la tiri a me la bomba giuro dovrà cambiare il veicolo eh siamo là eccolo Zucchione ha preso un quad polizia fermo fermo polizia vieni ora se mi forno mi tiri una bomba si ma devi anche scendere un po' se no dai così è brutto ma scendi un pochino da quel peino è vietato? è vietato non mi puoi sparare sali sali guido muoviti dov'è? basta spara spara fai fuoco fuoco di copertura oh no Zucchia via 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 parte chip vieni qui si va al punto c li facciamo una bomba cico top pronto dov'è? l'ho visto è lì no è vietato il caro armato è vietato è vietato è vietato va bene allora io vai ciao 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 allora Alex io direi di farei me contro te va bene allora concludiamo io ragazzi vi ringrazio di nuovo per aver visto questo video non so quando lo vedrete comunque ricordatevi e io e Sergio ci prendiamo una pausa per Natale da quando vedrete questo video fino al 10 gennaio è lunedì quindi io vi saluto vi auguro buon Natale buone feste a voi e alla vostra famiglia Cico Alex mi piace e non c'è out ciao a tutti ciao 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 ciao